In degustazione con il nostro Cabernet Franc in purezza, annata 2017, la prima annata prodotta dall'azienda, vengono raccolte le migliori uve del nostro Cabernet Franc, fa fermentazione integrale in barrique e poi un affinamento di circa 18 mesi sempre in barrique. Allora, andiamo con la degustazione, vediamo un bel rosso rubino intenso con dei riflessi violaci che ci fa presagire ancora la gioventù di questo nostro vino, una bella consistenza, al naso è intenso, ampio, frutti rossi, ciliegia, amarena, prugne, molto floreale, con rosa, poi balsamico, si sente i ciodi di garofano e speziato, si sente la vaniglia e anche la noce moscata. In bocca prosegue con tutte le caratteristiche che abbiamo ritrovato sia all'esame visivo che quello olfattivo, ha un ingresso molto potente, bello fresco, il tannino è avvolgente, morbido e una bella persistenza. Grazie. Bene, direi allora ci uccide. Grazie. Grazie. Grazie.